Hanno assaltato due postman nella notte. Il primo tentativo a Rimini è fallito grazie all'intervento dei carabinieri. I ladri hanno preso di mira due uffici postali, uno a Rimini in via Gallina, l'altro a Sant'Arcangio di Romagna e in piazza Marconi. Gli investigatori pensano che si tratti degli stessi che hanno battuto il territorio sud della provincia di Rimini nei giorni scorsi. Nel primo assalto i malviventi sono entrati in azione intorno alle due di notte, quando con un oggetto contundente hanno cercato di sfondare la vetrata per arrivare alla cassaforte del postman, ma è entrato in funzione il sistema d'allarme che ha fatto arrivare i carabinieri. I malviventi intanto sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. È invece andato a buon fine il secondo assalto a Sant'Arcangio di Romagna dove i residenti di piazza Marconi sono stati svegliati dall'esplosione avvenuta intorno alle due e un quarto. Questa volta i ladri hanno utilizzato la classica tecnica della marmotta e dopo aver riempito di esplosivo lo sportello automatico hanno fatto scattare l'ennesco non prima però di aver oscurato con lo spray le telecamere e circuito chiuso che sorvegliano gli uffici postali. L'esplosione ha scardinato lo sportello automatico riuscendo ad aprire la cassaforte. I ladri hanno preso i contanti che si trovavano all'interno e sono fuggiti prima dell'arrivo dei militari. Un bottino di diverse migliaia di euro allo stesso tempo danni ingenti per la struttura.